Ti sgama Aspetta, devo rimettere Oggi gioco contro i Diamond 1 in Tormenta e non ho neanche il mid laner Non sponsorizziamo il Tormenta che non lo merita Ma in realtà mi avevano chiesto di sponsorizzarlo, solo che io ho chiesto nel momento in cui avevano Oddio ragazzi, c'ho la scia Dandami un secondo, chi c'è bot questo? Nel momento in cui mi hanno detto, c'è il Tormenta e tutto, io cosa ho fatto? Sono andato da un coach e ho detto, ma il Tormenta, che tipo di torneo è? Ma è un torneo tipo Lega Seconda, non ci giocano le squadre sceme, ci giocano le squadre furbe Allora niente, non sponsorizzo nulla, non ci penso neanche di partecipare con il team di Dio Andiamo, andiamo, andiamo Pink Ragazzi siete pronti? Oddio Quando è che va il flash? Flippalo, flippalo Portali da noi Mamma mia Mamma mia Gol Non mi avete testato Io non clicco niente, io ho cliccato su di lui e ti ero data Mostro, grazie, torno, torno, torno No, no, basta Ho messo da ward, ho messo da ward, ho messo da ward, tipo di Paggia Sì, dai, era tutto un detto per fargli usare le salmone Arriva, arriva 7,7,7 qui dietro Arriva, arriva Arriva, arriva Lo flippo, hamburger No, 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 non so di beppa Oh, hd, quanti danni, oh Grazie, voi vissi Ok Pente kill, pente kill Oh, grazie, scappo Alla fine l'ha preso nulla Non ce l'ho lo smite Lo usate per Intanto in stare a cambi Se mi smite è un po' offensivo verso i bambini Tipo C'era una formica nel coso Vai, 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 arrivo, arrivo, arrivo Vai, 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 vai Lasciatelo killare da Sharon Così c'è il buff Easy È come se l'avessi fatto tu Adesso è come se l'avessi fatto Continua Vai, 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 vai L'ho mincato Ma siamo in pizzeria, guys Non si capisce Sta continuando Vai, vai, vai No Ok Siamo a tre minuti Siamo tutti a l'uno Basta Ma te ne vai a fare in culo Giornato, giornato, giornato Bravo, bravo Camille Cosa ti posso dire C'aveva lì al porca troia È rimasto a 10 HP Il termine troia è un pochino offensivo Eh, vabbè Torno in Arrivo Perché sono in pre? Va bene, ok No, no C'è il mio mid laner Vabbè, vai, sai Perché? Perché dove in tre? Che cazzo? Ah, perché corchi il mid laner Holy shit Ok, grazie Va bene Bravi ragazzi Ottima prestazione 14 kg in tre minuti 14 kg in tre minuti Il termine minuto è un pochino offensivo I minuti sono molto belli in verità Ok, abbiamo Allora, di base stiamo vincendo Perché io sono un hyper carry E ho 3 kg e 3 assist Quindi No, aspettate Adesso ci non ho preso Storno bot No, stai, no Io buono Stai lì, stai lì Stai lì, mostro Ma Giusto Giusto per l'expo Mostro dei forni Hardingaggio 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 di che? Non ho ancora il 2 io Zono 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 Zona I'm zoning Fizza Fizza Grabo Fatti sotto Vai, va, vale Aspetta Adesso scambio il PS No, no, c'è lo scato Ok, faccio Movimento Ilica Grazie E di sinza Un po' un bidone Eh, bocelli Sono Vedi che bocelli Allora, devo fare lo scatto al bot No, no, c'è un adesso Tu, anche qui Lo scatto al bot Bot, le inserite Per favore Arrivo 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 Prendiamo 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 Ok, no Vado Vado Ti saluto Sì, sì Benissimo Benissimo Faccio da bodyguard Una bombola di veleno Facci, vado, ci vado Mamma, ma quanto sono forte con Sinjed Bam Mamma mia Perché c'è anche la skill nel champion Quale, quale? Non muoiono Non muoiono Oh Oh Muovere Buone, raga Oh, gu Bot, boy Ganchiamo bot Ganchi bot Ganchi bot Vai dritto, dritto Aspetta Un sonnifero sul gatto Che cazzo, eh? Sonnifero sul gatto Cos'è? Mi socio Oddio Il cosbi dei gatti Cos'è successo? Arrivo 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 L'inizio L'iveto L'iveto Vai Tiraglielo Tiraglielo No, no Non c'ho più mano Non c'ho mano Ho finito il mana Non le mani È diverso Non ho No, no Aspetta Lì, tira la ward Mamma mia Ma che cazzo Questo Mi muore C'è Fra quanto ce l'hai il Il count Sono morto Sono morto Per questo C'è lì Finno E c'è lì Giotto No, no, no Come fanno Arrivo Vale Arrivo Arrivo È pushato Non è No, no Aiuto Vai Sono morto Ho fatto una stranzata Un lato Ho turbintato Ma non si capisce Ma mi sa che qui Perdiamo la partita Perché Senta Un po' avere 36 CS Che sta giocando contro Ok, perfetto Contro la torre Sta giocando Cosa Perfetto Che cosa Il piano Perfetto Sei minuti Dal minuto Zero Bravo È semplice Questa formazione L'ho ideata io E semplicemente Si chiama Cazza duro La cazza di cane Comunque complimenti Ragazzi Perché stiamo dando Alla chat Un esempio Esemplare Di cosa vuol dire Invadere Con stile Esatto Mi sarebbero Coach Ma lei si sta drogando Io risponderei Che non si fa Sì è il support Ok Perché lì Anche se si In realtà No non è il support Quello gioca midlane Cioè Questo è il punto Io ci ho credo Un calcio Infatti Ah ma perché Siano due cose Di support Loro Vai Sì si intercambiano A seconda del tempo Parlano più di noi Loro Abbiamo trovato pane Per i nostri denti Ragazzi Pane o pene Beh Tutte e due Dipende cosa ti piace di più Risca il pane Arrivo Arrivo Spero non vi sdegno Arrivo bot Giro 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 Ruoto Aiuto La vada a pushare la wave Ok No il carrello Vabbè Sharon So di cosa Sarei parlando Arrivo bot Non ho nulla Non ho nulla Bravo Cami Mammo Cami Fortissimo C'è stato giato Ha letteralmente tirato dritto Ottima synergy guys GG Vabbè io Chi lo so Sai che dà tanta Movement speed Eh Le palle Lo shurel Lo shurel Vai okami Bravo Easy No Faccio Faccio il campan E' il campan Mamma mia Vado top Vado top Arrivo Arrivo Ciao Ah ho vincitato un po' troppo presto Lui Siamo quasi più vicini Ma ti avviciniamo questa partita Ma il c'ha vinto sto game No no aspettate 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 Adesso Vabbè quello lo sta all'era Vabbè quello sta all'era Vabbè quello sta all'era No 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 da Dove lo sfogarmi mentre qualcuno Arriva Arriva sul cieco Arriva sul cieco Picchiate il cieco Picchiate il cieco Che non vi vede Andalo Oddio Che botta Olè Non ho lo smite Non ho lo smite Lo tanto Lo tanto No ho tentato il coso Ho tentato il coso Viola Ho tentato il coso Viola Lo tanti Non puoi tantare Tu consigli Eh no Scusi Sbagliato Aspetta No no Ti tiro questo Dipendo l'occhio Il blu L'hai visto Dipendendo l'occhio ragazzi Ha cominciato a giogiare Ha cominciato a fare tutti i dojo strani Io ero fermo Dipendo l'occhio ragazzi Dipendo l'occhio Oh oh Questo questo Oh ah Dipendo l'occhio Vai 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 Ah m'asce è morta Grande asce Vi rendete conto che Facciamo così tanto casino Che io non ho sentito Corky che ha preso il package Non l'ho sentito io Vai 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 Non oh garda Non oh na Mamma ma vorrei dire quante di quelle cose Tante di quelle cose Po't midi e tante cose Non sono da dove Non è non è così Non è Non è Barece set non mi pare orco ma non ancora perché non coro no lascio morto ma non coro riscaldi il termine scampi è stato di mancanza è romano tra quagia che non c'è cosa perché se mi prendi i predator mobility boots sharon Vorrei vingarti un'altra cosa non te lo dico volevi scarti tante cose ma non so da Grazie per il sub bruschettone L'ho trittato Ma andiamo andiamo Me ne sbattò il cazzo Ho corchi c'ha 7 kill Era 7-0 Stiamo vincendo Arrivò coach Arrivò 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 Aspetta aspetta Bruschettone o bruschettone Bruschettone No aspetta da ho paura Grazie Grazie ragazzi Arrivò 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 Faccio Faccio un giretto Faccio un giretto Faccio un giretto Dopo tutto grazie Ok Ho trovato un polpo Viola Il termine polpo ce li fin qua ce li fin qua Vieni Arrivo Vi no vengo Chiamo di venire Un pochino bordo Stilo stile cosa che cosa stile ma che sono chi faccio 92 di danno Qui di qui di qui ok a mezza vita non ci sei No, 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 io flash di qui Qua ci tirano il capo Le frecciatine sei fortissima Mi raccomando, ti era 1000 ulti, che mi pare, un milione di danni E' la pizza chiusa, come non l'hai chiusa? Hai visto? Ok, facciamo il gank, faccio bedo Arrivo, 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 no ragazzi, sono morto Vado via? No, perché sono morto Ottimo Ho perso il carretto per seguire sta stranzata, via buona Te insegniamo dei toni bassi Ok Ottimo, ottimo ok silent allora o mio dio e adesso di tira un piccione in faccia pensando che sia la ulti lo scriveranno e poi tirò la ulti così devastiamo tirami la ultimate Ma perché hanno tutti i 12 kill tipo come ha funzionato veramente certo che ha funzionato grande Arriva 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 e exo slip e exo No non ci credo raga dai non può non morire Segui ma sei al 5 tu lo fa vado dall'altra parte ma sei al 5 Corriamo corriamo Corro lo prendo lo prendo Non c'è il mio blocchi Davide di farmare un po' così mostruoso Sono solo due livelli sotto la di carta che è la di carri C'è una di carri Ecco già grande charon Ma che quanto abbiamo preso Mmmmm Ciuisi Questa cosa è molto razzista Molto razzista Io mi distravo Vedi e così parliamo in calabria Favecchio Mmmmm E' era un po' stretto Però si Si incontra nei due calabresi Omle mle 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 Try the call calabri andai a letto Noo Noo segnato anche quella in mezzo La cosa qui parla mi ha utileiato Playato Tutti qui Ok, no, lo prendo prendo questo erano tutti lì ma io stavo facendo infatti uno vivo con l'isim Ok, era un tuff e tu, me ne vado, me ne vado, no, no, non lo prendo più, è schiso, stai facciato Vabbè, tifo, avesse farmato magari support 12 division score Avessi chiuso a postire un mare, avessi chiuso l'oggetto, magari avevi qualche Support forte, sì, ma sto giocando serio Sì, sì Eh, il Napoli vinceva mai il campionodon in questa formazione Eh, quello no No Ultimo, è stunnato No, 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 nessuno ci va Ah, 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 flash Salvo pure Ok, guarda Okami Ok, io forno a pregare il pacco, ragazzi Morto 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 Comunque, zio, Belvan, viene veramente da... da bestemmiare perché so che questi qua sono bad e stiamo perdendo il game contro di loro perché... Ho pregare un erro in esistente Per... 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 Un picco un po' frizzantino, dai, magari vai in metà... vai in metà... La error, la error, la error, ingaggia... Andy Kerr Ok Ingaggia, Joey Ok Bam Assist 3 Sì, sì, dai, vi sto carriando io, vi sto carriando io, cosa volete? No Perviva? No, aveva stile? Sì Oh, vale, vale, vale Io, trago io lo suono, mentre come cazzo Sono un po' lontano, sono... Aspetta, aspetta, adesso torno più veloce che mai Va bene Ma è tutto facile per uccidere l'avanguardia dei topi Meh... Okami, ma che stimersi? Leggici un po' la chat, per favore, grazie Oddio, la vale mi aspettare Ma me la uccidete voi la chat Vai, vai, vai No, no, cambio Morto Non è colpa mia, ok? No, ci sto farmando, perdonatemi Mi sono dimenticato degli avversari Okami, ma un... un Okami a karaoke Qui cantiamo canzoni streaming Anche no, fighe Io tu e fa Si tutta per me Senzete non voglio sta perché tu ma appartiene Ma tu scherzi, ma... Ho chiesto il tronzo Vaffanculo Arrivo, cambio, arrivo Ho delle retotiche canore Molto interessanti Le retotiche canore sono proporzionate al tuo... Vai, Zè Ho proporzionato all'elo Allora no Infatti Zewi canta meglio di da Che diamond Mamma mia Mamma mia Il mostro del void mi ha detto che sono un mostro del void Meglio del void che di Firenze Si lo sapeva Tante piromanzia Tante piromanzia Oh, oh Oh Flippane uno cazzo Eh, Flippa Vai, 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 vai Oh, perché cazzo ho ferro? Nessun problema Ma se siete diamond Sbagliate qualcosa E qualcuno te lo fa notare E state tranquilli che non è Un bello Ah, già Meglio Vorrei augurarvi Non si filta Vorrei augurarvi tante di quelle cose Fum Guarda Hai una chat privata Mi puoi mandare quello che vuoi Difendo top Mi si è piaciuto, Kami Grazie Difendo top Mi regalo un po' di roba viola Non c'è nel senso Un po' di smack Lo subisci blanch Arriva 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 Vai, prendilo, prendilo, Flippalo Eh, vacca, defica Palla a volo proprio No, non mi killa What? Broca in champion Oddio Oh, tu sei nella madonna Perfetto E per stile La PD comunque è sbroccatissima, Swash Mamma mia Io questa abitazione Eeeh Io ci vado Arrivo, arrivo Ho l'R9 Vado in vostro team battaglia Dov'era Alisin? Non ho visto E porca Ah, mi vedi? Oddio Waaah Aiaiai Ci vado, eh, Silent Vai vai Ti ulto, eh Mi raccomando Riva Boh Ho preso lo shutdown sul tipo, figa, mi ha dato un miliardo di gold Easy Wart Tutto grazie Al potere dell'amore Bravissimo Adesso ho il potere di Singel C'è qualcosa che mi son dimenticato di fare, aspettate Oh, mi hai tirato troppe robbie Oh, do you want to go? A reach Sharon? Vai 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 Raggiungi quello lì Raggiungi quello lì Raggiungi quello lì Investilo Via Boh Eeeh Adesso? Adesso dove stai? Così in par Peccati sto cazzotto nei denti Uomo cieco Voi lo sai che in pratica hai appena investito un cieco Eh sì, hai appena investito un cieco Ci attraversiamo la strada Hai investito un disabile Non è molto morale Arriva arrivo arrivo No non me lo tirare in pace Sì 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 Arrivo 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 Ci sono ci sono ci sono Vado? Tando 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 Vai 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 arrivo Flash out Flash out Flash out Ho flashato No scherzo Ragazzi ma se prendo crit su singed e crit o gli lancio lo scuro tipo Oh 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 Un'ipenda Penda Dietro vissi 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 Prendere lei lo chilo lo chilo lo chilo abbiamo appena perso Perché sei un mostro del void Allora il termine perso è un po' sagerato 13 3 di 13 7 È vero è vero 12 5 Un diamond avrebbe cambiato con la lead che hai preso 4 15 11 E ha buildato critico Ma secreto gli lancio lo scudo Secreto gli lancio lo scudo Questo non fa una piega Non fa una piega Allora E vaffanculo sua mamma Wow Che cazzo è? Ok ok lo butto dentro la base Lo butto dentro la base 800 gold Uuff Vai vai raga Figa Eeeh Wow quanta violenza in questa società Ok Tuk I tuk son buoni ragazzi Dopo mi faccio tipo una doccia di mezz'ora Per togliarmi da addosso le partite che ho fatto oggi C'è chi piacciono i tuk e c'è chi piacciono i cock Ho intanto così tanto oggi che dopo devo farmi una doccia C'è un botto i I taralli I taralli I taralli Vale vale beta Vale beta Sto arrivando da dietro Più Più No non ci sono Io ci sono sempre Sempre ci sarò Ok 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 Ci sei? Non c'è nessuno Ci sono Zeu io ti sto seguendo Sono davvero lente semplicemente Arrivo 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 Vai ho cammi grande Perché si Vai ho cammi Grandissimo Grandissimo Baron Baron Complimenti ho cammi Baron Grazie 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 Vai 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 io c'ho la pink C'ho la pink C'ho la pink Wow Easy easy Chi lo tanca? Ii 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 Io arrivo Vai 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 ma karma anche a lungo critico ragazzo ancora anche a karma che player la madonna arrivo e stai comiendo perché non sento poi c'è già mai mai va ammazzato prima quello ragazzi aiuto c'è un ciclo che mi picchia c'è nel senso lontano il cuoio da un cuoio da un cuoio da un po io kaito un video salvato cani non ciò che dica è una bella più utile io no no fuggito è fuggito uno lì devo farla culo no no ragazzi un bar un buon bar un buon bar un buon bar un pro solo non ho lasciato mai so aggressive high school loser no col cool il garzio bad rowland 01 ce l'ha scritto rematch dopo voglio vedere metti di singe fan culo il tormenta ragazzi forza napoli forment a me pozzo napoli sempre pure con la scia ma stu e non me l'ha scritto stramorti ha fatto lo scugnizzo non è che ho stato ma nel suo stato degli italiani contro 1 swine stanno cammi questo presentimento cent'anno costato ecco perché abbiamo beh ecco adesso adesso torna tutto adesso torna tutto aiuto quadra mi sembrava per me abbiamo vinto con collazione iniziale per me con quella abbiamo vinto gvp ragazzi grazie 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 grazie